Il 2021 è un anno complesso di sfide. Presideremo i lavori del G20, ospiteremo il Global Health Summit, lavoreremo in partnership con il Regno Unito per la COP26 sui cambiamenti climatici. E proprio ieri a Bruxelles abbiamo raggiunto, lo voglio ricordare, l'accordo al Consiglio Europeo sul Green Deal, con il quale ci impegniamo a ridurre del 55% le emissioni per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Il nostro Paese è nel gruppo di testa, non dobbiamo perdere questo primato. Ma il 2021 sarà anche l'anno del recovery plan, delle progettualità decisive per il futuro del Paese, quindi rivoluzione green, digitalizzazione e innovazione, investimenti in ricerca, istruzione e formazione. E poi ancora infrastrutture per una nuova mobilità sostenibile, centralità della salute, attenzione all'inclusione, alla coesione territoriale. Non si tratta solo di voti slogan elettorali, ma di una precisa agenda politica. E la mia azione è sempre stata orientata all'impegno, nella riduzione del divario, delle diseguaglianze sociali, alla creazione di una rete solidale per l'inclusione di tutti. E mi permetto anche di sottolineare che è centrale, sarà anche nel G20, il tema, l'ho già ripetuto più volte, dell'empowerment femminile. Ma la battaglia decisiva è quella di oggi. È la battaglia delle idee di chi vuole consegnare alle future generazioni un mondo diverso, un mondo migliore. E sono certo che in questa grande sfida saremo gli uni al fianco degli altri, per lavorare insieme dalla stessa parte. Vi auguro un buon proseguo di lavori, un buon proseguo di confronto di idee.